...dicono è finita dalla panchina del Napoli, guardate Spalletti lo spaluto adesso è 4 di recupero va a lungo Bonifazi tasto stop arriva la decima vittoria consecutiva tra campionata e Champions per il Napoli la squadra più lanciata d'Europa che si riprende il primo posto in classifica e ha ritrovato definitivamente il suo uomo mascherato tra le proteste dei giocatori del Bologna la legge di Osimena arriva anche Tiago Motta a allontanare i suoi vedendo la protesta e concorso con un po' di nervosismo nel finale per il Bologna che ha fatto un'ottima partita tanti segnali positivi da cui partire premio scotto 10 vittorie consecutive tra campionato e Champions elencando solo i numeri della Serie A il Napoli ha realizzato 25 reti cioè tu sai che quando entra in campo il Napoli almeno due golli fa ha la media di due golli e mezza partita sta squadra qua incredibile inarrestabili e qualcuno dirà perché poi già li conosco a memoria quelli che commentano commentano ma lo fanno perché tanto basta scrivere qualcosina basta muovere le dita ma gli occhi per vedere le partite non ce li hanno non li hanno e li conosco tutti quelli là perché sono quelli che poi oggi dopo entrare in Italia vengono a scrivere sì ma tanto giocavi con la Serie A non è che puoi giocare tutte le partite contro il Barcellona o il Napoli non è che puoi giocare tutte le giornate contro Ajax Liverpool e compagnia cantante no ma devi raccogliere anche nelle gare dove magari quel livello di attenzione si abbassa perché se giochi ogni due ogni due tre giorni poi queste partite sono quelle che devi vincere sono quelle meno scontate e tanti sta roba non la capiscono questa è la roba che mi manda in bestia non la capiscono sta roba qua e Napoli vince continua a vincere e lo fa creando 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 anche oggi almeno dieci palle goal in una maniera incredibile poi al di là di come nascono questi goal andiamo di nuovo a citare alcuni giocatori prima però come al solito vi invito a lasciare un like a iscrivervi per seguire i prossimi contenuti non è finita la giornata odierna dopo il Milan poi facciamo anche un recap e tutto il resto ma vi presento anche anzi vi ripropongo anche l'app il sito Hypermatch che vi offre un nuovo modo di giocare al fantacalcio lo so che in tanti di voi questo amate il fantacalcio amate quindi io vi fornisco questo sito che è un'app innovativa made in italy Hypermatch e si affida alla tecnologia blockchain come dico sempre vi fornisco ulteriori dettagli in merito stiamo parlando di un fantacalcio con regole classiche e dove i calciatoni sono degli nft quindi avete anche l'opportunità tramite un marketplace di scambiarli e di valutare anche la funzione di crescita è una roba incredibile e potete ottenere token tanto divertimento assicurato quindi passateci se andate il fantacalcio non fatevi non fatevi pregare passate sotto link in descrizione tornando alla partita io ricordo anche quelli che dicevano no ma adesso che arrivò si man magari no in una macchina che sta funzionando così bene va a ingrippare il motore il motore il motore va se il motore è bello performante il motore va o si man risulta l'ennesima variabile tattica perché offre sicuramente uno sviluppo diverso alla manovra la profondità ti dà profondità ti dà peso nell'aria se se devi no se devi portare se devi portare peso nella zona offensiva e il terzo gol la dice la dice lunga il terzo gol il gol di Ossiman la dice la dice lunga sull'importanza di avere una rosa così forte quest'anno come già dicevo e lo riconfermo il Napoli è migliorato perché ha tante variate tante varianti di gioco e c'ha dei giocatori che fanno la differenza sì oggi sicuramente una gara complicata nonostante poi se andiamo a vedere se stringiamo due tiri in porta due tiri in porta del Bologna due gol se stringiamo poi attenzione Bologna ha fatto la sua partita lo trovi in crescita secondo me sta migliorando sta lavorando meglio e si vede qualche miglioramento però la verità è che poi trovano anche il pari del 2 a 2 lo trovano su una papera di merette che poi si è lasciato andare anche qualche altra uscita un pochettino a voto ecco qua qua devono essere intelligenti a Napoli e parlo soprattutto dei tifosi e non iniziare di nuovo a buttare fango sul portiere perché dopo un inavvio secondo me importante di merette si rischia di nuovo di farlo scendere nel bar e questo potrebbe essere un problema per la piazza e per il Napoli ma levato questo e levato ripeto l'ultima prestazione del Bologna che è rimasto sempre in gara ha fatto la sua io devo dire che il Napoli quando aumenta i giri del motore quando cresce nella partita e cresce è partita soft tranquilla e poi nel primo tempo ha mancinato gioco su gioco e abbiamo visto quante triangolazioni nello stretto e ho visto delle giocate veramente illuminanti anche oggi ho visto delle giocate veramente illuminanti soprattutto di Kvara Schelia che non voglio risultare pesante ripetermi sempre ribadire sempre gli stessi concetti e annoiarvi però come fai anche oggi come fai a non parlare delle sue giocate ditemi voi se ci riuscite io non ce la faccio io non ce la faccio anzi vi dico anche vi confido un aneddoto stupido perché vedendomi protagonista l'aneddoto deve essere per forza stupido ma quando ho preso sto giocatore qua ma sì sto Georgiano che poi con questo nome impronunciabile che fa Schelia ma sì ma non perdo neanche troppo tempo a memorizzarlo dicevo tra me e me tanto un anno farà un anno anonimo e poi via ci leviamo il pensiero invece Kvara Schelia è un nome che abbiamo imparato tutti ed è un nome che sentiremo e che a gran voce pronunceremo da qui ai prossimi 15 anni almeno sì perché questo qua è destinato a grandi cose sto giocatore qua è destinato a cose grandi a cose grandi perché anche oggi si è andato a vedere ragazzi ha fatto delle robe incredibili l'assist no la verticale il filtrante per Raspadori come la carezza lì per Raspadori nel primo tempo che poi chiude col sinistro ma tutta l'azione andrebbe rivi tutta l'azione prima la verticale prima la verticale di Lobotka poi nel secondo tempo il gol il secondo gol del Napoli dove nasce nasce dall'ennesima professione di sto ragazzi che poi vince l'ennesimo contrasto l'ennesimo rimpallo e non è fortuna questo li vince sempre i contrasti e non è fortuna perché questo qua oltre ad avere velocità tecnica dribbling questo qua ha anche fisico stazza e quando va a duellare la prende lui la palla ragazzi miei e lì tiro in porta poi c'è ci sono tanti uomini del Napolinari a ribattere e Lozano appena è entrato la butta dentro segno che come dicevamo prima variabili no tiri fuori Politano metti Lozano e ti può trovare il gol tiri fuori Gaspadore metti Osimene e poi ti trovi il 3 il 3 a 2 ma chi gli dà quella palla illuminante Osimene è bravissimo Osimene a chiamare la profondità ma chi gliela dà proprio con i tempi giusti sempre Kvara Scheria cioè questo non è che è solo dribbling o tiro in porta questo è illuminante nella visione del gioco illuminante traversa clamorosa di Zielinski chi gliela dà in profondità Zielinski chi gliela dà quante volte è andato via su quella fascia e assaltare l'otto all'uomo quante volte crea superiorità sempre lui ragazzi sempre lui e qua sto parlando di quelle 3 o 4 situazioni clamorose che mi vengono in mente ma ce ne sono tante altre nello svolgimento della gara incredibile poi c'è un altro giocatore che sto menzionando poco ma che ho sempre adorato e l'ho sempre ritrovato rivoltante in alcune circostanze perché in altre situazioni poi appassisce ma ma quando è in fiore no Zielinski è clamoroso è una di quelle mezzale strepitose strepitose ragazzi perché fa veramente bello e cattivo tempo ha una tecnica incredibile sopraffina sopraffina e in questo momento in questo momento è una squadra veramente 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 tosta veramente tosta il Napoli e poi dietro Kim che non sbaglia una partita ecco gli altri la possono sbagliare ma lui no gli altri per esempio Joan Jesus che poi si fa perdonare con il gollo mezz'ora in pallo va detto lì e la butta dentro però lì nel primo gol per esempio è quello che sbaglia la posizione poi cerca in qualche modo ma si perde sempre l'uomo nonostante Di Lorenzo cerca di andare a coprire la sua posizione appunto però ripeto tra gli altri Kim non la sbaglia mai la partita e questo è un Napoli in continua continua scesa una roba una roba folle complimenti a lui complimenti a Spalletti a tutta la società a tutti perché quando raccogli questi risultati 26 punti su 30 è una roba clamorosa ancora insieme all'Atalanta che è seconda sono le due squadre le uniche imbattute una roba una roba clamorosa imbattuta anche in Champions sì folli veramente veramente folli un grande abbraccio tardi nè 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 nè